La Lega denuncia il depotenziamento dell'ospedale di Faenza con il trasferimento a Ravenna del professor Ugolini, primario in chirurgia. Dalla risposta del direttore generale della USL Tiziano Caradori, una conferenza stampa lunedì 29 marzo per ribadire la posizione e per indagare ulteriormente sul caso. Io l'ho ascoltato all'intervista di Caradori, lo ringrazio per la celere risposta e dalla risposta si evidenzia un fatto. A fine di quell'intervista si capisce molto bene che la preoccupazione nostra è vera. Il fatto che medici di chirurgia a Faenza possano chiedere la mobilità per potersi trasferire assieme a Dugolini a Ravenna. Cosa lo dimostra? Lo dimostra il fatto che siccome le sigle sindacali di categoria abbiano denunciato la carenza di organico, è molto facile pensare che a Ravenna, oltretutto la quale recepirà un primario di eccellenza, possa avere la richiesta di altri medici per aumentare l'organico, essendo in assenza di questo. La preoccupazione è tanta e quindi è logico pensare che si facciano delle operazioni programmate e non più una chirurgia d'urgenza. Almeno per i prossimi sei mesi, come ha dichiarato, tempi minimi dichiarato da Caradori, non avremo un primario, ma un primario ad interim, che potrebbe essere sicuramente Ugolini, ma che non operi su Faenza e quindi per almeno sei mesi noi avremo un depotenziamento e avremo un problema sull'ospedale di Faenza. Potevamo evitare il fatto che ci sia questo servizio dell'ospedale di Faenza a Singhiozzo. Premesso che il trasferimento è legittimo, si poteva almeno programmare una sostituzione prima? Beh, certo. Io non penso che il direttore dell'ASL lo abbia saputo quando l'ho saputo io. Io immagino che il direttore dell'ASL lo abbia saputo in tempi anche normali, da poter prevedere una sostituzione o una continuità di servizio.